Quindi prima di addentrarci un pochino nel capire quali soluzioni possono mettere a disposizione delle industrie berghiera vorrei che ci illustrassi un pochino chi è Facro in quali ambiti per l'appunto. Ok intanto grazie a tutti per la mia presenza per essere qui ad ascoltare e intervenire in questo webinar. Facro è un gruppo internazionale, un gruppo polacco che si occupa di luce zenitale principalmente per cui illuminazione con finestre da tetto. È un gruppo che ha ormai superato i 30 anni, è il secondo player mondiale, gestiamo praticamente, copriamo tutto il mondo con 17 società distributive, con 11 sedi produttive ed abbiamo grossomodo un 15% del mercato mondiale. Qui vedete probabilmente la struttura centrale che è quella nei pressi di Cracovia. Questo è chiaramente il nostro, è la nostra sede, il nostro business riguarda appunto come detto finestre da tetto, sia finestre a tetto a falda che finestre a tetto piano. E passerei addirittura subito alla presentazione se non ti dispiace che così proseguo. Sì 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 no no certamente, certamente e per l'appunto siccome tra l'altro abbiamo accennato a un progetto in cui sono inserite anche le vostre finestre da tetto, ti chiederei di un pochino di presentarci quali soluzioni avete a disposizione in termini di finestre da tetto e quali in particolare sono state utilizzate nel progetto che abbiamo visto presentato precedentemente. Benissimo, si vede la presentazione? Sì, ti conferiamo che si vede. Ecco perfetto, allora in risposta alla tua domanda per quanto riguarda il riferimento al progetto ci arriviamo un po' verso la fine. Inizierei con quello che è un po' il nostro segno distintivo del gruppo ed è quello che riguarda l'innovazione. FACO si concentra moltissimo sull'innovazione nel proprio settore, investe in questo campo parecchio. In sede abbiamo un centro di ricerca e sviluppo con oltre 100 progettisti che si occupano sia di evoluzione del prodotto che evoluzione dei sistemi produttivi e quant'altro. Questo gruppo ad oggi ha più o meno sviluppato grosso modo 160 domande di brevetto. Per cui vorrei toccare velocemente un paio di punti, un paio di dettagli che i nostri prodotti contengono e comprendono, perché poi sono delle caratteristiche distintive che ovviamente vengono a beneficio dell'utente finale, vengono a beneficio del mercato. Si parla spesso di longevità o di quanto dura un prodotto. Sappiamo benissimo che il mondo dei seramenti purtroppo l'utente finale poi non si occupa molto di manutenzione e lascia il prodotto alla sua vita. Per cui è molto importante il come trattiamo i nostri prodotti fin dall'inizio, fin dalla base. Parliamo per esempio dell'impregnante. L'impregnante può essere applicato chiaramente in parecchi modi, che sia a spruzzo oppure in altri modi, che sia superficiale, che sia su elementi finiti, che sia su elementi separati. Per quanto riguarda FACO viene fatto con un'impregnazione sottovuoto, per cui gli elementi singoli vengono messi in camera iperbarica e vengono affogati nell'impregnante. Questo fa sì che, un po' come effetto carta assorbente, l'impregnante entra per più o meno una decina di millimetri e questo fa sì che la durata nel tempo, la tenuta nel tempo risulti essere molto molto maggiore. Un altro aspetto che può riguardare la tenuta e la durata del prodotto sono degli appositi scarichi di condensa, perché proprio per la sua collocazione inclinata le finestre a tetto sono spesso soggette a condensa, chiaramente, perché non si può gestirla solamente con le tipologie di vetro o con le varie caratteristiche isolanti. Di conseguenza l'importante è gestirlo in questo senso. Nelle case e nelle abitazioni private spesso si vede degli antiestetici rigagnoli di condensa che scendono verso l'interno. Qui sono stati applicati degli appositi fuori per fare racquare la condensa verso l'esterno e non gravare poi sul prodotto, né da un punto di vista di tenuta, né da un punto di vista pratico, funzionale, estetico. Un altro aspetto sono dei particolari elementi di materiale plastico che in fase di chiusura fanno sì che il prodotto sia sempre perfettamente centrato e di conseguenza le cerniere si muovono sempre e solamente perfettamente in asse. Un altro aspetto importante, un'altra evoluzione dei prodotti riguarda il rinforzo contro le frazione. Chiaramente parliamo di finestre, chiaramente il punto debole può essere il vetro ma l'importante è garantire dei rinforzi per quanto riguarda l'effrazione. È composto da tre elementi questa struttura. Un innovativo sistema di fissaggio delle cerniere che fa in modo che possano supportare carichi di oltre 150 kg. La maniglia, la parte di chiusura della maniglia è una placca in plastica ma sotto c'è un'anima in acciaio. E il terzo punto molto importante è una barra anti-effrazione, una barra di metallo che fa sì che non si possa con degli attrezzi da scasso scardinare la finestra. Per cui tutte le nostre finestre hanno, praticamente queste proteggono sia da uno sfondamento dall'esterno che da uno sfondamento con attrezzi da scasso. Il primo pictogramma, quello con lo sfondamento, può essere anche visto non solo rivolto a malintenzionati ma anche a malcapitati, diventa anche un fatto di sicurezza sul lavoro perché qualora una persona, un operaio che stia lavorando sul tetto metta il piede in maniera impropria sulla finestra non finisce al piano di sotto. Un altro aspetto importante è una ventilazione che noi chiamiamo automatica. è semplicemente una gestione da un punto di vista fisico della ventilazione. Ovvio che questo è un sistema, se vogliamo, meno adatto in questo tema perché ovviamente quando si parla di hospitality si parla anche di ventilazione meccanica, si parla anche di sistemi di regolazione e controllo come ne ha parlato chiaramente in maniera approfondita un relatore precedente. Però se si parla di piccole strutture, se si parla di strutture non controllate ovviamente un ricambio di aria è salutare ed è importante. In questo caso c'è un canale di ventilazione che può essere chiaramente chiuso tramite una griglia che al suo interno ha una membrana mobile che a seconda del vento esterno praticamente chiude questo passaggio e fa in modo che all'interno ci sia sempre un sano ricircolo d'aria ma non sia percepibile, siano percepibili di spifferi d'aria o appunto queste noiose forme di corrente d'aria. Ecco, questi accorgimenti, questo rassunto di accorgimenti particolari o tutto il lavoro alla base del nostro centro di ricerca ci porta ovviamente ad avere oltre una ventina di certificati tra i più importanti prestigiosi istituti in Europa e soprattutto a poter offrire al mercato delle garanzie molto importanti garantiamo dieci anni sulle finestre nel suo insieme, vent'anni per il vetro camera e garanzia vita per danno da grandine qualora i vetri si rompessero per danno da grandine. Entriamo adesso nelle soluzioni come già anticipato ci occupiamo di due particolarità costruttive progettuali sia nel campo dei tetti a falda che nel campo dei tetti piatti l'applicazione nei tetti a falda è comunemente indicata dai 15 gradi in su mentre quella per tetti piani dai 0 gradi ai 15 gradi queste sono due tipologie completamente diverse di prodotto ma che completano il range da quel punto di vista C'è un punto fondamentale convenzionalmente quando si parla di finestre da tetto a falda le si abbina alla finestra a bilico da un punto di vista funzionale che è quel pittogramma in alto a sinistra è la soluzione più semplice la soluzione che esiste da più tempo però bisogna andare e si può andare anche oltre questo concetto di bilico soprattutto quando si vuole progettare anche delle soluzioni estetiche gradevoli ed importanti qui vedete una carrellata di quelle che possono essere varie tipologie di finestre che vanno oltre al bilico i pittogrammi centrali fanno vedere un po' qual è il tipo di apertura qual è l'impatto verso la vivibilità delle persone quello tutto a sinistra è la bilico e comprendete che se l'altezza della finestra è ad altezza uomo metà dell'anta ricade verso l'interno quando si apre per cui può anche limitare la movimentazione o l'accesso in questo senso da un punto di vista di finiture o di materiali si parla principalmente di legno il legno che generalmente viene fornito in tre versioni o legno naturale o legno lacato bianco o poliuretano bianco con una copertura più importante oppure esistono anche le versioni in PVC sia bianche che con le finiture laminate ovviamente nel campo delle finestre subentra anche quello che riguarda i livelli prestazionali di un prodotto la Uni 10.818 parla di tra i compiti del progettista quello della scelta del tipo di seramento in relazione ai livelli prestazionali per cui se vediamo i due livelli principali uno può essere chiaramente quello dell'isolamento termico dove tutta la nostra gamma va a coprire va a soddisfare i requisiti per 5 zone climatiche sulle 6 zone climatiche concepite in Italia mentre poi il triplo e il quadruplo vetro le finestre con triplo e quadruplo vetro sono assolutamente adatte a rispondere anche ai requisiti per la zona climatica F quella più severa oltre al discorso del isolamento termico chiaramente parliamo anche di isolamento acustico anche qui abbiamo un'ampia gamma di chiaramente di performance veniamo adesso alle varie soluzioni come detto fuori dallo schema della finestra bilico una finestra molto importante può essere quella a doppia apertura tramite un selettore riesce a fare a selezionare i due diversi tipi di apertura come vedete nella foto grande sia il bilico che il vasistras il bilico ci può servire per la pulizia del vetro esterno o per altre particolarità mentre il vasistras per non gravare sull'interno e nello stesso tempo anche per avere una faccia migliore le finestre elettriche che possono essere collegate alla domotica che possono essere gestite con dei radiocomandi o possono essere gestite con degli smartphone delle finestre con asse di rotazione decentrate che hanno delle particolarità nella loro particolare il fatto di essere molto di poter avere delle dimensioni molto alte 2,06 per la finestra singola 2,55 per la finestra a doppia col sottoluce sotto una caratteristica che può risolvere dei problemi progettuali è chiaro che se c'è una richiesta di una superficie minima di luminosità da un punto di vista di finestre se si va nelle finestre di misure tradizionali e ci si trova su un tetto in legno bisognerebbe tagliare un trave e fare una costruzione di allargamento mentre in questo caso è fattibile lavorarlo all'interno delle travature stessa cosa l'altra soluzione invece di lavorare con una fiesta grande si potrebbe lavorare con due piccole ma anche qui capite la differenza da un punto di vista estetico della resa estetica più pregevole della finestra vetrata unica concludo la carrellata sulle soluzioni con le finestre ad altissime prestazioni dove possiamo rispondere a qualsiasi requisito fino alla casa passiva il mondo delle finestre a tetto è fatto di prodotti standard da un punto di vista di dimensioni e di soluzioni uno dei punti di forza di Falco è quello di poter lavorare anche su qualsiasi tipo di personalizzazione lavorare sul tailor made per cui possiamo seguire qualsiasi tipo di progetto sia da un punto di vista di forma che di colori che di materiali e poter portare a realizzazione qualsiasi tipo di soluzione passando poi all'altra tipologia di prodotto quella dei tetipiani vedete che anche qui la gamma è molto molto vasta si partiva dalle classiche finestre con la cupola in plexiglass per passare poi a soluzioni molto diverse anche qui copriamo tutta rispondiamo a qualsiasi requisito fino alla zona climatica F queste sono le finestre più tradizionali quelle più classiche la sinistra è la cupola di derivazione industriale che ovviamente però in questo caso ha delle performance termiche adatte al residenziale cambia solo la parte estetica se vogliamo di queste finestre possono essere in varie misure possono essere apribili elettriche o manuali eccetera vediamo adesso alcune costruzioni alcuni progetti alcune situazioni molto molto particolari abbiamo in gamma anche una finestra calpestabile che può essere montata a filo pavimento per cui da un attico dare luce al piano di sotto qui vedete un po' lo schema di posa o qual è la stratigrafia ovviamente della finestra una finestra doppio vetro camera con un triplo vetro copiato esterno un doppio copiato interno la superficie esterna ovviamente anche a discivolo ci sono poi anche sul tetto piano la necessità ogni tanto di avere un'uscita a tetto per accedere a far manutenzione ai pannelli fotovoltaici o altro esistono dei seramenti appositi come esiste anche una soluzione apposita per abbinare una finestra esterna per tetto piano che in questo caso è una botola cieca con una scala retrattile interna queste sono un po' le carellate adesso arrivo alla domanda che Marco mi aveva fatto al collegamento che Marco mi ha fatto dove posso collegarmi al bellissimo intervento dell'architetto Caberlon tra l'altro sia nelle foto che scorrevano c'erano diverse immagini di stanze col tetto a falda per cui quello che è stato il nostro ambiente di intervento sia poi direttamente citato dall'architetto Caberlon che sono le stanze family quelle all'ultimo piano che proprio dove siamo intervenuti siamo intervenuti noi qui una visuale all'alto praticamente perimetralmente sui quattro lati ci sono le stanze e sono state applicate queste finestre che finestre sono state applicate sono state installate finestre 32 finestre di dimensioni molto grandi per le finestre a tetto per cui 134 x 140 sono finestre di colore bianco poliuretano e hanno e sono comandate azionate elettricamente per cui con un sistema domotico a protocollo Z-Wave in abbinamento alle finestre sono state abbinati alcuni accessori tra cui principalmente gli avvolgibili esterni e dei moduli domotici moduli domotici per poter poi integrare il movimento e la gestione sia della finestra che dell'avvolgibile anche chiaramente a un impianto più integrato di tutto l'hotel parlando collegandomi al fatto degli avvolgibili su questo diagramma vedete un aspetto che riguarda la gestione del calore ovviamente siamo in posizione zenitale l'irraggiamento solare è sempre molto molto forte e ogni tanto sappiamo come le mansarde si scaldano e di conseguenza la problematica è grande passando dal lato destro verso sinistro vediamo cosa succede con una finestra senza nessun tipo di copertura una finestra con delle performance termiche abbastanza basse venendo pian pianino verso sinistra vediamo delle performance termiche di vetro migliori un vetro basso emissivo, un vetro protezione solare e poi degli accessori applicati prima internamente e poi esternamente vedete che gli ultimi due sono gli unici due accessori esterni che sono la tenda parasole o l'avvolgibile e sono quelli che permettono di di abbassare in maniera drastica il risultato dell'irraggiamento solare all'interno di un vano sottotetto questa era la soluzione nel caso specifico adottata nell'hotel in aggiunta sono state applicate anche delle finestre particolari degli evacuatori fumo per cui per la gestione con la centralina evacuazione fumo per poter gestire ovviamente anche i casi di emergenza in tal senso certo ecco vorrei farti proprio questa domanda a cui hai accennato vedo che stavi anche andando su questa argomentazione perché parlando di luce zenitale tu hai accennato ai fenomeni di surriscaldamento quindi al tema di massarde calde c'è bene illustrato però non c'è solo il tema del surriscaldamento ci possono essere anche magari dei fenomeni di abbaglio che allora vanno a creare una situazione di discomfort che non diciamo non aiuta l'esperienza visto che così riprendiamo un argomento che abbiamo utilizzato non aiuta a creare un'esperienza piacevole per l'utente ci sono delle diciamo delle tecniche piuttosto che delle soluzioni che aiutano a ridurre e mitigare questa problematica assolutamente sì diciamo che la gamma di accessori che possono essere installati in abbinamento alle finestre è abbastanza ampia se iniziamo proprio dal tema del surriscaldamento che comunque è molto soprattutto d'estate soprattutto in Italia e più che mai se andiamo verso il centro sud è una problematica abbastanza importante vediamo quali possono essere i componenti intanto ovviamente ormai si lavora quasi esclusivamente con vetri camera ad alta efficienza per cui vetri camera generalmente definiti bassi emissivi sono vetri camera che hanno delle un rivestimento che riduce gli scambi termici per il raggiamento ed hanno poi anche altre caratteristiche come per esempio i distanziatori tra i vetri sono in alluminio ma non taglio termico proprio per dare prestazioni maggiori il basso emissivo lavora sulle due stagioni o lavora sui due opposti da un punto di vista climatico in inverno chiaramente la stanza genera un po' di calore le persone dentro generano del calore e pertanto la funzione del vetro basso emissivo è quello di trattenere verso l'interno quel calore e aiutare a dare un comfort maggiore mentre la funzione estiva è quella di respingere il calore esterno e fare in modo che non entri e non non incida fortemente col surriscaldamento è ovvio che il vetro da solo non è sufficiente va abbinato ad altre situazioni qui siamo tornati un po' al grafico che ho fatto vedere anche prima anche qui le due colonne azzurre sono quelle che riguardano i due accessori esterni per cui la volgibile esterna o la tenda parasola esterna gli altri la parte centrale riguardano delle tende parasola interne che vediamo non hanno un'efficacia ai massimi livelli da un punto di vista di gestione e surriscaldamento ma possono avere quello che accennavi tu Marco prima cioè contribuiscono al benessere interno possono essere schermanti possono essere anche componenti di arredo per cui li si gestisce più per la funzionalità e per aspetti di arredo, di design come ci si protegge sul riscaldamento? vediamo che nel pictogramma che è una finestra senza protezione fa passare più o meno un 60% di energia solare chiaramente il vetro termico fa la sua funzione con una tenda oscurante interna ne passa comunque ancora un 35-37% vediamo cosa si può fare invece per gestirlo bene si possono usare tende parasole si possono usare avvolgibili o si possono usare vetri camera appositi per esempio con la tenda parasole esterno vediamo che si riduce a un 4% l'energia che penetra all'interno d'estate e per cui si può lavorare con tende parasole le tende parasole possono essere manuali, elettriche o solari nel caso delle solari hanno un pannellino che praticamente le alimenta ma la caratteristica principale è che a quel punto lì hanno anche un rilevatore di intensità di luce e se lascio regolato su automatico la tenda la tenda si srotola e si arrotola a seconda dell'intensità di luce durante il giorno questo indipendentemente dal nostro anche in assenza delle persone per cui se la mattina usciamo parliamo ovviamente più di una casa che di un hotel se usciamo e la giornata è nuvolosa e non ci pensiamo e poi esce il classico soleone la tenda si regola e la sera ci fa trovare un clima molto più adeguato l'altra situazione è l'avvolgibile esterno come nel caso del chiaramente permette uno scolamento totale quel prodotto che abbiamo visto prima applicato all'hotel Hilton di Trieste esiste una normativa che riguarda le schermature solari chiaramente la normativa prevede un fattore solare di massimo 0,35 qui vediamo delle soluzioni vediamo che il seramento da solo non raggiunge questo scopo il seramento con la tenda ombreggiante o con l'avvolgibile esterno ha dei parametri nettamente inferiori a quanto al requisito minimo troviamo concludendo vorrei proporvi anche un'ultima soluzione che è quella non necessariamente legata a un accessorio e riguarda l'utilizzo di seramenti con vetri camera e protezione solare che a loro volta da soli già rispondono appieno a quelle che possono essere le esigenze della schermatura solare ecco io con questa carrellata molto molto veloce avrei finito spero di essere mai stato anch'io nei tempi vi ringrazio dell'attenzione qui ci sono alcuni riferimenti i primi due sono quelli generali il terzo è un indirizzo mail specifico per progettisti per richiedere eventualmente qualche consiglio qualche soluzione qualche intervento specifico nostro allora ti ringrazio Bruno per averci introdotto a questo argomento che crea sì del comfort ma come abbiamo visto anche utilizzato nel contesto per esempio del double trilton di Trieste crea anche valore nel caso proprio delle stanze sotto tetto dandogli quasi una dimensione completamente diversa quindi grazie si è visto anche in alcune fotografie chi ha potuto notare quelle col tetto inclinato col tetto a falda chiaramente riguardavano le stanze dove sono state applicate queste tipologie di finestre perfetto allora io ringrazio Bruno per pruner ovviamente ringrazio anche Facro e ci sto grazie a tutti grazie a tutti